Potevo io resistere alla tentazione di parlare nuovamente di Trafalgar di Waterloo in un video sul canale? Chiaramente no, non potevo esimere noi, ma rispondiamo subito alla domanda da cui parte questo video. Può il personaggio effettivamente one-shotare e quindi sconfiggere con un colpo singolo Big Mame Kaido? Sì, può farlo se rispetta una sola condizione, quindi ne abbiamo da parlare in questo video di oggi. Spero di resistere come riporta la scritta sulla mia felpa, ce la possiamo fare. Confido in me e confido in voi, ma insomma stacco di grafica perché non ce la posso fare a continuare a vedere questa brutta qualità video. Devo assolutamente cambiare cam con la Sony Alpha Ultima e poi insomma procediamo alla chiacchiera di questo video. E caspita, per me parlare di Trafalgar Law è veramente un panico perché dopo il video quello in cui spiegavo perché a parere mio era considerabile un fallimento narrativo da parte dell'autore, dato che per tutti i capitoli in cui è stato di fatto un coprotagonista non si è comportato e quindi non è stato sfruttato narrativamente parlando come un effettivo coprotagonista, e ho molta paura del risponso che può avere la mia fanbase quando parlo di questo personaggio che chiaramente è uno tra i più amati ed effettivamente piace anche un sacco a me ed è per questo che per me è così complicato parlare male di Trafalgar Law perché io adoro il personaggio di Law e ha un potere che è fenomenale ed essendo io un sanitario, o meglio in procinto di diventare un effettivo e fichissimo, potentissimo sanitario, mi trovo molto affine con le sue capacità perché sarebbero estremamente utili per me in clinica. Quindi un po' rosico, un po' l'invidio, un po' è bellissimo come design, quindi ha pure un anno d'acibu, insomma va a completare entrambe le mie passioni, entrambe le cose che caratterizzano la mia essenza, la mia esistenza stessa, le spade giganti e il fatto che ha poteri medici incredibili. Ma d'altronde anche nell'opera il frutto opio è considerato come il frutto del diavolo definitivo e questo perché ha tra le varie la capacità di donare diciamo l'eterna giovinezza che possiamo interpretare come una sorta di vita eterna, chiaramente in cambio della vita dell'utilizzatore, ma comunque ha una capacità a livello medico che è strabiliante. Tornando però al topic effettivo di questo video, perché dico che trafalgarlo con il suo potere, ora che la battaglia impazza in quel derachima del tetto di Onigashima, potrebbe effettivamente sconfiggere Kaido e Big Man con una sola mossa? Per comprenderlo serve semplicemente fare affidamento a quelle che sono le capacità che già conosciamo del suo frutto. Capacità che purtroppo è da dress rosa che dico possieda, è da dress rosa che sappiamo possieda effettivamente, ma che non ha mai utilizzato con questa applicazione tecnica. E' chiaro, c'è una ragione metanarrativa per cui non può utilizzare questa capacità, o meglio per cui Yoda non gliela fa utilizzare. Ma rimane il fatto che poi, a livello potenziale, lui può effettivamente one-shotare Kaido e one-shotare Big Man all'unisono. E sapete come si chiama questa capacità se volessimo parlare con un linguaggio un po' più tecnico? Si dice che ha un potere rotto! E' rottissimo l'opeope! Ora facciamo un piccolo recap di quelle che sono le abilità che ci servono per andare a fare il nostro costrutto, per andare a intavolare questa struttura architettonica di elucubrazioni, insomma passo dopo passo. Ora vi ricordo che l'opeope è un frutto di tipo panamiscia. E la funzione base che possiede è quella di andare a creare delle room, che non sono altro che dei campi di azioni sferici. E il possessore, quindi in questo caso Trafalgar Law, dentro a questi spazi, dentro alle room, ha il completo controllo sulla posizione degli oggetti che sono dentro di essi situato. Dal momento che Trafalgar Law è anche uno spadaccino, riesce a utilizzare quella che è la sua spada come una sorta di bisturi, essendo di fatto un parallelismo in ambito medico. E se tendenzialmente con il suo potere, quello che cerca di fare è creare una sorta di confusione proprio a livello di campo di battaglia, quindi andando a invertire le posizioni degli oggetti o delle persone, o addirittura cercando di debilitare gli avversari tendenzialmente definibili fodder, quindi gli scarsoni se vogliamo dirla all'italiana. Quella che è un'applicazione molto più interessante, e che tornerebbe molto più comoda in questo caso, è un'abilità che lo utilizza banalmente per spostarsi in modo rapido. Perché tendenzialmente è al di fuori del combattimento, ma per assurdo anche qui a Wano Kuni, proprio a livello di combattimento vero e proprio, per schivare i colpi o per spostarsi più rapidamente, quello che fa è scambiare la sua posizione con qualcun altro, o comunque con un oggetto, per raggiungere ciò che normalmente sarebbe fuori dalla sua portata, e questo appunto per una questione di velocità fisica. E se consideriamo che lui di fatto ha questa sorta di teletrasporto in cui switcha il suo corpo con quello di un oggetto incurante poi di quelle che sono le masse effettive da spostare, perché lo vediamo molte volte durante l'opera che lui riesce a fare una sorta di switch in e switch out tra il suo corpo e dei sassolini, che chiaramente non hanno la stessa massa, non hanno la stessa forma, volume, chiamatelo come volete, vuol dire che lui può teletrasportare due oggetti indipendentemente dalla differenza di volume, o di massa, o di densità, non segue nessuna limitazione fisica, non c'è questo problema, un po', se vogliamo, come fa il personaggio di Nightcrawler nella Marvel. Che ci sta ovviamente? Siamo in un'opera fumettistica, quindi non è fondamentale rispettare una cognizione logica della fisica, quindi uno spostamento massa uno a uno, non è importante. Il problema è che questa cosa permette molti escamotaggi tecnici di cui parlavamo prima, e considerando che lo sviluppo della Room che lo ha ottenuto negli anni gli consente di creare, diciamo, una sfera di azione, un raggio di azione che è più grande del Palazzo Reale di Dressrosa, questa capacità gli permette di spostarsi letteralmente da un posto all'altro su tutta la piana di Onigashima. Quindi lui, sempre a livello potenziale, può attualmente prendere e spostarsi, invertendosi con un oggetto o con un corpo fisico di una persona, in qualsiasi posto della, diciamo, isola di Onigashima. E questa è una premessa fondamentalissima. Un utilizzo molto particolare che ha fatto dello Shambles, che è appunto questa capacità di invertirsi con un oggetto o con una persona, lo abbiamo avuto proprio all'inizio di Onigashima, prima, diciamo poco prima, dell'inizio degli scontri effettivamente più seri. E lui, da un sottomarino, posizionato sul mare, è riuscito a teletrasportare se stesso e tutte le persone che stavano con lui sulla costa di Onigashima. E questa capacità è la stessa che paventavamo al tempo di Dressrosa, perché potenzialmente, indipendentemente quindi dal mare o da altre condizioni avverse, fin tanto che rientra nella Room, che ricordiamolo è una sfera, lui può letteralmente teletrasportare qualsiasi cosa in qualsiasi posto, senza limitazioni di sorta, se non la stamina individuale. E arriviamo quindi al punto focale, allo snodo più importante e secondo me fondamentale, diciamo, della disamina di oggi. Perché è questa tecnica che gli consentirebbe di sconfiggere con un colpo unico sia Big Mom che Kaido. Ma in generale questo discorso lo possiamo fare per un qualsiasi suo avversario possessore di un frutto del diavolo. Perché se lui crea una Room basata su un determinato raggio di azione, vuol dire che è una sfera che lo sta circondando. Quindi non solo le cose che stanno sul terreno o comunque sopra di lui, ma anche quelle che stanno sotto. E se il suo raggio di azione comprendesse anche di fatto degli oggetti che si trovano sul fondo del mare, lui può tranquillamente prendere e teletrasportare l'oggetto che sta sul fondo del mare con il suo avversario. Può invertire questi due corpi, quindi persona e un'alga, e il fruttato non può fare altro che annegare. E ora la domanda che probabilmente mi farete nei commenti o comunque la contromotivazione che potreste muovere. No, purtroppo l'acqua debilita il fruttato solo se ha contatto, il che significa che non è un impedimento fisico. E ve lo posso dimostrare banalmente ricordandoci quello che fa il protagonista. Perché è capitato più volte che Rufy, pur essendo sott'acqua, utilizzasse i suoi poteri del diavolo. Quando si trova a Darlon Park e sta combattendo appunto contro gli uomini pesce, avevano incastrato il suo corpo sotto quella che era la piscina. Chiamiamola piscina per comodità d'espressione. E comunque il suo corpo si allungava, al punto che sono riusciti a prendergli la testa e a portarla di fuori dall'acqua per farlo respirare e non farlo quindi morire soffocato. Perché l'acqua debilita e basta. Non ha nulla i poteri di fruttati. Il che significa che Trafalgar Law può tranquillamente switchare un oggetto fisico che si trova sotto il livello del mare con un oggetto fisico che si trova al di sopra del livello del mare. Fintanto, sempre, chiaramente, che sia all'interno della sua room. Ed è per questo, caspita, che mi disturba così tanto che un personaggio che mi piace venga poi utilizzato narrativamente così male. Perché questo è un problema narrativo. Oda le ha dato un potere che è troppo forte, che non è gestibile a livello di sceneggiatura. Perché, se partiamo dal presupposto che il limite di un potere, quando troppo forte, può essere dato dal carattere e dalla caratterizzazione del personaggio, come per esempio nel caso di Kizaru e del suo Pika Pika, che a livello di carattere va a controbilanciare l'eccessivo potere del frutto della luce, nel caso di Trafalgar Law, questo non regge, perché il personaggio ci viene presentato come uno tra i più intelligenti in circolazione. È uno dei pochi personaggi dell'opera che ha una formazione di tipo, diciamo, accademico. Quindi non è l'ultimo arrivato, non è assolutamente stupido come personaggio. Anzi, avendo delle nozioni di medicina, di logica, di fisica, di biologia, di biochimica, questi ragionamenti dovrebbe farli lui stesso esattamente come li faccio io, come li facciamo noi. Perché è un suo limite quello di ragionare in questi termini. E se non l'ho ancora fatto, questo tipo di attacco, è perché chiaramente sarebbe troppo forte. Quale sarebbe il pathos di infilare Trafalgar Law in uno scontro e lui semplicemente con uno switch di personaggio e Alga ha già vinto. Non ci sarebbe, non sarebbe più uno scontro interessante. Ma il problema quindi non è l'impossibilità di Oda di utilizzare il potere dell'Ope-Ope. È alla base la potenzialità che ha dato all'Ope-Ope. Probabilmente senza considerare questo sviluppo possibile. E un limite di Oda a livello di caratterizzazione primaria ha fatto sì che si sviluppassero questi, diciamo, definiamoli controsensi anche se non sono controsensi. Ci sono delle limitazioni autoimposte. Potremmo definirli così, effettivamente. Chiaramente, ripeto, a livello narrativo Oda non può farlo fare. Non può perché sarebbe un rovinare la narrazione degli scontri. E che se ne dica, One Piece rimane comunque un battle shonen. Però in un contesto battle, avere un potere così e non utilizzarlo è anche quello un difetto. E chiaramente, tra i due difetti, i due problemi, Oda ha optato per quello, diciamo, tra virgolette, meno grave. Perché ti consente comunque una narrazione più fluida, più interessante. Però poi, chiaramente, c'è un problema di logica alla base. E niente, io spero che questo video non scateni troppo gli animi. Ho cercato di essere il più tranquillo e sereno possibile, però capisco che parlare di Trafalgarlo e di, in generale, parlare di possibili o evidenti o poco evidenti, o quello che è, comunque, errori di Ciro Oda sia molto difficile per un fan dell'opera. Quindi, anche se siete molto fan dell'opera, vi assicuro che lo sono anch'io. Mi piace anche tantissimo il personaggio. Abbiate pazienza, non incavolatevi. Scalate la marcia. E cercate di capire, semplicemente, che quello che volevo fare in questo video era chiacchierare della dinamica. E quindi, io adesso ho detto tutto quello che volevo dirvi. Mi rifarò e vedrò cosa avrete voi da proporre nei commenti. Quindi, fatemi sapere la vostra opinione, come sempre. Qui sono lo spazio ai commenti di YouTube o sulla discussione ufficiale sul gruppo chat Roniner su Telegram. E se questo video vi è piaciuto, lasciate pure un bel like per supportare il canale. Vi faccio presente che questa sera, alle 9.30 sarò in live da Delimello sul canale Relazione Sottocultura su YouTube e che domani, dalle 12, quindi da mezzogiorno fino a mezzanotte, quindi alle 24, farò una maratona live su Twitch. Quindi, dai, vi aspetto numerosi. Avremo un sacco di aspetti importantissimi. Ci divertiremo un sacco. E andremo a intervallare divulgazione e intrattenimento molto, molto trash, ve lo assicuro. Avremo molte cose a raccontarci da ridere. Insomma, domani non vedo l'ora di essere in live. Sarà divertente. E sarà allo stesso tempo un panico. E vi ricordo che dalle 10 fino a mezzanotte la live sarà aperta a tutti quanti, quindi anche voi potete entrare ospiti e parlare con me del più e del meno. Quindi, detto ciò, vi ricordo come sempre che nell'info box trovate i link di Pampeling, sito di magliette e quincolaboli di cui un codice sconto, i link Telegram di One Piece Uniti, canale a tutto tondo che tratta il mondo di One Piece, i link di tutti i miei social per stare sempre aggiornati sul mondo dei fumetti e per ricevere i feed di video, i link del mio saggio a tema One Piece, i link del bot dove recuperare tutti gli anime esistenti licenziati in Italia e io credo di avervi detto tutto giunto a questo punto, quindi fate i bravi, mangiate le verdure, pregate affinché io riesco a comprarmi la Sony Alpha che mi serve entro marzo e devo mettere via dei soldini e basta, quindi ci vediamo questa sera in live oppure domani. Bella a tutti!